Ben trovati all'appuntamento con Detto il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. Sono tre gli argomenti che affrontiamo anche in questo nostro incontro, partendo dall'approvazione del bilancio dell'esercizio 2022 dell'Agenzia regionale di Sanità, il voto è arrivato a maggioranza e poi è partita da Prato il Coricom in Tour, la prima campagna di ascolto e informazione del Comitato Toscano per le comunicazioni. Però, attenzione, c'è la possibilità di partecipare già al premio Innovazione Toscana 2023, vi diremo come aderire e dove far arrivare le vostre domande di partecipare. In apertura, come avete sentito dai titoli, parliamo del Via Libera al bilancio di esercizio 2022 dell'Agenzia regionale di Sanità da parte del Consiglio regionale della Toscana, a maggioranza quindi la proposta è di Libera con il voto favorevole del PD e Italia Viva, contrari Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Movimento 5 Stelle. Il bilancio ammonta a 2.736 milioni di euro. L'atto stabilisce però che l'utile di esercizio sia così ripartito. Il 20% destinato a riserva legale per la copertura di perdite future. L'80% sia da restituire alla Regione. A questo proposito, dato che nella Facoltà del Consiglio regionale disporre che il restante 80% dell'utile sia riassegnato in tutto o in parte all'ente per la realizzazione di investimenti o per finanziare le funzioni di ricerca, sarà restituito a ARS che dovrà però usarle per effettuare una ricerca sull'uso della sanità privata non convenzionata da parte dei cittadini toscani. Il bilancio di ARS, come tutti gli anni, abbiamo approvato il bilancio di ARS 2022, quindi quello consuntivo. È un bilancio che è in linea con quelli che sono gli impegni anche di contenimento della spesa. Ne sappiamo il finanziamento di ARS ormai da tanti anni è lo stesso e dall'anno scorso è stato anche un po' contratto. Questo ARS è stato capace di farlo senza ridurre l'attività di ricerca che è stata alta anche durante quest'anno e quindi insomma un risultato comunque importante. Il bilancio presenta un avanzo d'amministrazione che come prevede le leggi noi abbiamo la possibilità o di rimandarlo nel bilancio, quindi nel bilancio generale della regione o di mantenerlo ad ARS vincolandolo ad un lavoro specifico e abbiamo chiesto appunto che ARS faccia un lavoro sull'andamento della spesa privata da parte dei toscani in sanità non convenzionata anche perché c'era uno studio ante Covid e quindi questo poi ci può permettere di fare un benchmark dell'evoluzione da prima del Covid ad ora su quello che spendono i toscani in sanità privata e sappiamo essere un elemento di criticità insomma di tutto il paese e quindi anche della Toscana. L'ARS sta dimostrando di essere una società in equilibrio, all'ARS va chiesto sempre qualcosa di più, lo stato della salute toscana non è in salute, questo è un dato di fatto oggettivo, serve migliorare la risposta dei servizi sanitari della Toscana, su questo noi stiamo lavorando per incidere penso sulla possibilità di utilizzare anche del personale che ha dei titoli riconosciuti a livello europeo ma che possa lavorare perché oggi a livello di sanità convenzionata o privata c'è difficoltà a trovare il personale, c'è una difficoltà del sistema pubblico a dare risposte puntuali in tempi certi e quindi bisogna migliorare, c'è una difficoltà economica a far quadrare i conti, le questioni sono aperte quindi credo che l'ARS possa essere di supporto al decisore politico per assumere delle scelte di responsabilità che credo nelle prossime settimane vadano assunte. Il bilancio di ARS è un bilancio ineccepibile, anzi forse troppo perché avanzano 70.000 euro quindi noi ovviamente quando c'è una società che funziona dovrebbe consumarli tutti e probabilmente chiederne dei nuovi, invece il bilancio da 4 milioni è passato a 3 milioni e 500, 3 milioni e 600 quindi è evidente che non viene utilizzata nella potenzialità delle sue competenze. Sul bilancio dell'ARS il parere è un parere negativo, ma è un parere negativo perché noi dobbiamo interrogarci su quello che dovrà essere il futuro dell'Agenzia regionale di sanità. Oggi noi sappiamo troppo poco di quello che viene fatto, le agenzie regionali svolgono un'attività preziosa di supporto anche per le attività della Giunta e anche indirettamente del Consiglio. Oggi però sul fronte sanitario dobbiamo pretendere di più, noi siamo in una fase in cui molto spesso si legano le risorse al sistema sanitario a richieste che non hanno però come adeguato presupposto la programmazione, cioè un'analisi preliminare di quelli che sono gli effettivi bisogni del sistema sanitario regionale che molto spesso appunto si rischiano di ridursi a semplici richieste di allungare più soldi e più risorse da parte del Governo nazionale senza però legare ripeto a programmazione ed efficienza. Questo è un ragionamento che come dire anche qui può sembrare quasi scontato, in realtà noi non abbiamo un sistema che oggi garantisca un monitoraggio attento sull'impiego delle risorse e l'Agenzia regionale di sanità non può ridursi a svolgere il proprio ruolo di semplice monitoraggio, di semplice diciamo raccordo quando invece potremmo sperare e auspicare di avere dei soggetti delle agenzie regionali che svolgono un ruolo molto più attivo, ripeto, proprio in termini di programmazione. Quindi come dire il tema del risorso è un tema che c'è nel sistema sanitario, il tema invece che viene molto spesso sorvolato, su cui spesso non si dibatte, è quello della programmazione. Non stupiamoci se molto spesso ancora le liste di attesa non riescono ad essere smaltite nel nostro sistema sanitario perché questo dipende dal nostro punto di vista da una totale mancanza di programmazione rispetto ai fabbisogni. E adesso lasciamo il Palazzo del Pegaso, andiamo nel Palazzo della provincia di Prato perché far conoscere le funzioni e attività del Corecom agli enti locali e ai cittadini, coinvolgere le amministrazioni per promuovere l'attività di Sporterlo per la risoluzione delle controverse con gli operatori delle telecomunicazioni, rafforzare le attività di formazione all'uso consapevole del web e dei social tra le nuove generazioni grazie all'iniziativa del patentino digitale. Ecco, sono alcuni dei temi che sono stati trattati ma anche spunti offerti dalla discussione nella sala consigliare della provincia di Prato da Marco Meacci, presidente Corecom della Toscana, organo di consulenza e di gestione della regione in materia di comunicazioni nonché organo funzionale dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni. In occasione è questo evento della prima tappa del Corecom Tour. Parte questo primo Corecom Tour che facciamo un po' in giro in tutta la Toscana, partiamo oggi da Prato ma poi continueremo a Pistoia, Lucca e in tutte le città capoluogo della Toscana. Ci sembrava importante e necessario fare questa campagna di informazione ma anche di ascolto, andando in giro, illustrando le funzioni del Corecom che è l'organo di consulenza e di garanzia della regione toscana nella comunicazione, dando informazioni sulle varie funzioni sia per quanto riguarda in generale la vigilanza e la gestione, sovraintendere a quelle che sono le programmazioni televisive e radiofoniche in Toscana ma in generale anche mettere al corrente di tutte le funzioni. Penso per esempio a tutta l'attività importante che facciamo sul patentino digitale che è quella informazione e formazione che viene fatta ai ragazzi delle prime medie della Toscana in modo da renderli consapevoli di un uso sicuro di internet e dei social. Penso a tutto il tema anche che riguarda le gestioni delle controverse telefoniche tra i cittadini, le compagnie telefoniche, le tv a pagamento e internet in modo che in questo senso il Corecom svolge una funzione di conciliazione gratuita, un servizio gratuito in un tema molto sentito e che è vissuto quotidianamente dai cittadini. Poi abbiamo anche tante pratiche, cioè tanti incentivi e valorizzazioni di buone pratiche della comunicazione, abbiamo dei bandi in questo senso che servono per valorizzare e incentivare le tante pratiche di buona comunicazione che ci sono in Toscana. Penso per esempio a tutto il lavoro che fanno le associazioni sulle campagne sociali. Un tour importante, noi siamo ovviamente felici del fatto che parta proprio da Prato e che veda la nostra provincia la prima coinvolta in questo progetto di conoscenza e di illustrazione delle numerose competenze, attività che il Corecom Toscana effetto e porta avanti per i cittadini e per tutti coloro che sono coinvolti nel mondo della comunicazione. È un organo questo importante e devo dire assolve veramente delle funzioni strategiche anche riguardo alla vita e alla quotidianità delle persone. Penso ad esempio a due tra i numerosi compiti che assolve, innanzitutto quello delle controversie riguardanti ovviamente internet, le operatori telefonici o ancora i contratti con le pay tv che è secondo me un servizio fondamentale, completamente gratuito a servizio del cittadino che può aiutare le singole persone nelle difficoltà che hanno con i singoli operatori di risolvere i propri problemi. Io anche i dati che sono stati illustrati vi ritengo davvero straordinari, l'83% di queste controversie trovano una soluzione positiva e quindi tutto questo insomma mi porta a cercare ovviamente di far conoscere sempre di più quello che è l'attività e la funzione del Corecom. Accanto a questo un tema che mi sta particolarmente a cuore è quello di quanto sia importante trasmettere e far conoscere soprattutto ai più giovani i buoni comportamenti, le buone pratiche riguardanti il mondo digitale, soprattutto il mondo dei social e questa è un'attività che Corecom porta avanti con le scuole, con il patentino digitale che aiuta e penso che questo sia fondamentale avere i corretti comportamenti, il rispetto e quella deve essere la modalità giusta di rapportarsi con i mezzi tecnologici. Quindi sicuramente un tour importante, onorati di partire da qui, da Prato e felici insomma di avere a disposizione una struttura, un organo che attraverso la regione toscana insomma a tutti i cittadini in modo gratuito può dare tante risposte. Spesso sconosciuto, la maggior parte dei cittadini, quindi io ringrazio il Corecom per questo tour che sta facendo in tutte le province. È un'istituzione molto importante, è una garanzia per tutti i cittadini e conoscerne poi i meccanismi oltre ai progetti e quindi un'attività che ha subito anche un grande impulso negli ultimi anni è importante, soprattutto per quanto riguarda le controverse, per esempio in materia di telecomunicazioni, ma anche progetti rivolti ai giovani. Quindi tutto quel mondo che è la comunicazione, che è sicuramente un mondo delicato, che dovrebbe essere messo a disposizione di tutti i cittadini. Qualsiasi iniziativa come questa che ne promuovono l'informazione e anche l'accessibilità da parte delle persone è benvenuta perché sicuramente è un modo in più per far capire che questo organismo è a servizio delle persone e quindi la regione toscana ha pensato ad un qualcosa che potesse avvicinare i cittadini e sentirsi meno soli, soprattutto in tema di comunicazioni. Parliamo del premio Innovazione Toscana Amerigo Vespucci, nato nel 2017, promosso dal Consiglio regionale insieme a Confindustria Toscana, organizzato dalla Digital Innovation Hub Toscana. Il premio è diviso in quattro sezioni, oltre alla tradizionale Startup Innovative, Ricerca, Sviluppo Innovazione Digitale e Sostenibile e poi Brevetti, prevede quest'anno, questa nuova edizione, una nuova sezione, ovvero Welfare e Parità di Genere, conferma anche il premio speciale per i giovani. Il bando è rivolto alle imprese, Startup Innovative, Spin-off, Accademici, è disponibile sul sito del Consiglio regionale della Toscana, nella sezione dedicata agli avvisi e poi sul sito Sviluppo Toscana e del premio Innovazione Toscana. Ricordate che le vostre domande devono essere presentate entro il 10 novembre prossimo. Il miglior progetto di ogni sezione riceverà un premio da 15.000 euro, mentre 5.000 euro in ogni sezione andranno a un altro progetto giudicato particolarmente meritevole della Commissione. Da 5.000 euro anche il premio speciale per i giovani. Siamo alla sesta edizione di un premio per me tra i più importanti che come Consiglio regionale ogni anno finanziamo. Con questo premio noi vogliamo mandare un messaggio alle ragazze, ai ragazzi che studiano, che si impegnano sul nostro territorio, che vogliamo accompagnarli nella fase più difficile, quella in cui si vuole intraprendere qualcosa di diverso, si vuole creare una nuova impresa, si vuole costruire innovazione. Questo è il messaggio più forte. Tante aziende in questi anni abbiamo premiato, sono già 45. Quest'anno è un'edizione ancora più bella, più importante. Si è deciso di istituire un premio speciale per il welfare e la parità di genere. Ringrazio il comitato promotore, ringrazio il vero motore, Silvia Ramondetta, perché in questa idea ci sta anche un po' la nostra idea di Toscana. Abbiamo lanciato Casa Toscana San Francisco, 20 start-up parteciperanno con noi dal 4 all'8 dicembre per incontrare investitori che operano sul territorio. Insomma, investire su chi fa ricerca e vuole trasformare quella ricerca in valore per il territorio e sostenere l'imprenditoria femminile sta al centro della nostra azione politica e questo premio va esattamente in questa direzione. Il premio Innovazione Toscana quest'anno giunge alla sua sesta edizione e lo fa forte dei successi che ha riscosso negli anni precedenti. Dal 2017 abbiamo raccolto e portato alla luce 270 progetti, abbiamo premiato 45 tra imprese e start-up innovative, abbiamo coinvolto 22 giudici di elevato livello in commissioni giudicatrici che appunto hanno operato al nostro fianco. È un premio che quest'anno peraltro proietta la Toscana verso una direzione 5.0, quindi verso una direzione di futuro sostenibile, dove l'innovazione è certamente principalmente basata sulla digitalizzazione e l'applicazione delle nuove tecnologie digitali, ma si apre chiaramente al concetto della sostenibilità ambientale e soprattutto della sostenibilità sociale con l'inserimento di una nuova sezione di concorso che è dedicata alla parità di General Welfare. Al premio si partecipa molto semplicemente. A partecipare quest'anno potranno essere peraltro solo le imprese e non anche altri soggetti perché Consiglio regionale e Confindustria Toscana hanno voluto puntare l'attenzione sul sostegno agli imprenditori. Si partecipa andando sul sito Premio Innovazione Toscana, scaricando il bando e la modulistica e partecipando al concorso che apre le proprie porte dal 16 ottobre alle ore 9 fino al 10 novembre prossimo. Si aspetta un mesetto, un mesetto e mezzo per la valutazione da parte appunto di una commissione giudicatrice formata da scienziati, accademici, universitari e industriali e a dicembre, entro il mese di dicembre, ci saranno gli esiti e la valutazione. Quindi l'augurio è che anche quest'anno si aggiungano molte imprese, soprattutto imprese giovanili e anche femminili, ma anche imprese strutturate di tutti i settori a partecipare a questa bella occasione che rappresenta la Toscana che può raggiungere un futuro sostenibile. Questo premio rappresenta un'attività che portiamo avanti da anni. C'è una novità quest'anno sulla parte della sostenibilità sociale e quindi della parità di genere. Quindi un'attività o comunque una filosofia nuova che deve essere trasmessa anche alle piccole e medie imprese che già qualcuna in maniera molto avveduta ha già iniziato, ma è comunque una cultura che dobbiamo in qualche modo trasferire a tutte le piccole e medie imprese. Quindi che la donna abbia pari le stesse opportunità dell'uomo nonostante il merito sia sempre l'elemento fondamentale, ma che abbia comunque le stesse possibilità di poter lavorare e sentirsi realizzata nel mondo del lavoro. E quindi con l'apertura della possibilità di partecipare, lo ricordiamo ancora, fino al 10 di novembre al Premio di Innovazione Toscana Merivo Vespucci si conclude anche l'appuntamento con Dentro il Consiglio. Vi ricordo per tutte le informazioni e dell'uscitazione c'è il sito internet www.inconsiglio.it Io vi aspetto come sempre qua, tra sette giorni, Dentro il Consiglio. Grazie a tutti!